Allora oggi mi è arrivata questa email e è chiaramente un email fake nel senso qui lui dice abbiamo fatto delle analisi e abbiamo scelto il tuo canale youtube tra quelli che ci interessano e così via ma è chiaramente basta vedere l'email e chiaramente questa qua va cancellata e bannata basta andare a vedere questo sito che non è assolutamente è un sito tipo libero così via e dunque non ha nessuna non può essere ecco naturalmente probabilmente dopo loro vorranno rispondi yes loro ti mandano un link e poi probabilmente ti mettono dentro un virus e niente solo che ce ne sono tante di queste mail vabbè state attenti ci vediamo la prossima arrivederci